Sono Giuseppe D'Ancuna. Ormai è la terza volta che acquisto materiale elettrico da MB Store e puntualmente ogni volta riscontro un servizio ineccepibile. Se poi al servizio aggiungiamo anche l'ampia scelta di prodotti e di marche disponibili a prezzi che sono veramente i migliori del web, non posso fare a meno di consigliarlo a tutti. Grazie e complimenti a tutto lo staff di MB Store.